Se è vero che una nuvola di punti contiene un sacco di informazioni, potresti chiederti vabbè, come faccio io a accedere a queste informazioni? Prova a raccontartelo in questo video. Ci sono due modi, visualizzare, interrogare e navigare una nuvola di punti, oppure metterci attivamente le mani per tirarci fuori qualcosa. Però facciamo un passo indietro. La nuvola di punti è un oggetto che è formato da un ammasso di punti, uno vicino all'altro, ognuno caratterizzato dalla sua posizione XYZ nello spazio tridimensionale e probabilmente ognuno avente altre informazioni, come ad esempio il colore, ma anche dati che derivano dal modo in cui è stata creata la nuvola di punti, che lo caratterizzano ulteriormente, secondo dei livelli ulteriori e nella totalità della nuvola di punti mi permettono di leggere la scena che rappresentano con grande ricchezza di dettaglio. Questa è la nuvola di punti. Come faccio a gestire tutte queste informazioni? Se è vero che è così figo, che è così bello, come faccio a avere la possibilità di metterci le mani sopra? Credo che ci si debba fare una domanda iniziale che riguarda il che cosa devo farci con quella nuvola di punti, con quel dato tridimensionale. La risposta potrebbe essere la devo guardare, ruotare, ispezionare, magari prenderci delle misure, delle informazioni metriche, oppure ci devo mettere attivamente mano sopra perché mi serve estrarci, tirarci fuori qualcosa per altri lavori, per altri scopi, per un progetto, per uno studio, per tante altre attività. Ecco, la risposta a questa domanda potrebbe già indirizzarti sulla soluzione in cui orientarti per gestire la nuvola di punti. C'è da fare però un'altra considerazione, secondo me, che è molto importante. Chi sei tu per ricevere una nuvola di punti? Scusa, questa domanda un po' marzulliana. Intendo dire, l'hai generata e l'hai creata per tuoi scopi professionali, magari sei un progettista che ha fatto un rilievo tridimensionale di un fabbricato o di una falesia rocciosa dove deve fare degli interventi di consolidamento e farai poi anche la parte di progettazione, quindi sei dentro la materia, dentro il flusso, oppure sei un altro tecnico che riceve un dato che è stato creato da qualcun altro e ti serve soltanto avere un'idea di che cosa stiamo parlando a livello tridimensionale, prenderci delle misure, oppure sei un amministratore e non hai, e non ti sono neanche richieste, le competenze per entrare nel dettaglio di una di punti, ma se hai la possibilità di avere l'accesso a strumenti semplici sei in grado di avere accesso a un sacco di informazioni, proprio quelle che contiene la nuvola di punti. C'è la tendenza da parte di noi che creiamo massivamente nuvole di punti, e mi ci metto in mezzo anch'io, di vomitare addosso a chi le riceve giga e giga di dati senza chiederci chi è che riceve la nuvola di punti, quali sono i suoi strumenti hardware e quali sono le sue conoscenze in questa materia. Una nuvola di punti può pesare dalle centinaia di mega e arrivare alle decine di giga, senza sforzarsi troppo. Se do una nuvola di punti che conta milioni, decine di milioni di punti e pesa 20 giga a qualcuno che non ha l'hardware in grado di gestirlo, è matematico che il sistema si pianta e quella persona, quella nuvola di punti, non l'aprirà mai. E potrebbe crearsi il preconcetto di, io le nuvole di punti non le voglio perché non sono in grado di gestirle, solo perché quella volta gli è arrivata una roba che gli è piovuta come una meteorite sul computer e gli ha fracassato tutto quanto. Ecco, dobbiamo, e questo lo dico per noi che le creiamo, forse tu che guardi questo video sei dall'altra parte, noi dobbiamo porci delle domande su chi riceve le nuvole di punti e dobbiamo semplificare la vita a chi riceve le nuvole di punti. È come dare un libro in un'altra lingua. Se io do una nuvola di punti a chi non è in grado, non ha le competenze per leggerla, è come se io gli dessi un libro in un'altra lingua con le informazioni più interessanti nel mondo ma che sono inaccessibili perché quella lingua non è conosciuta. Allora, in questo video voglio farti vedere le due categorie di sistemi che si possono utilizzare per gestire le nuvole di punti che sono i visualizzatori e i software. Ti farò una breve carrellata dei software, poi porrò l'accento su un software che secondo me in questo momento è quello su cui bisognerebbe orientarsi per lavorarsi attivamente, che è Cloud Compare, è un progetto open source. Non ci entro nel dettaglio, ti faccio soltanto una panoramica generale. Quello che vedi in questa finestra è un visualizzatore e quello che vedi in questo visualizzatore è una nuvola di punti e questa nuvola di punti rappresenta un sito estrattivo. Allora, io adesso mi metto nei panni di chi vuole indagare la nuvola di punti per tirare fuori delle informazioni anche quantitative oltre che qualitative per il proprio lavoro senza avere la necessità di metterci mano attivamente sopra. E secondo me il visualizzatore è lo strumento ideale perché non richiede tendenzialmente una grande sforzo per capire come funziona e poi perché tendenzialmente ci sono delle soluzioni che viaggiano online e non ti richiedono neanche di scaricare in nessun modo dei dati. Questa è una soluzione che si appoggia al web, quindi io ho creato questa nuvola di punti che deriva da un processo fotogrammetrico con immagini scattate da drone. L'ho caricata su un post online, ho condiviso il link con chi doveva essere informato di questi dati e questa persona ci può fare alcune cose. Banalmente, ma mica tanto banalmente, prende questo modello tridimensionale e se lo guarda. Ho detto mica tanto banalmente perché secondo me fare questa cosa è tutto fuorché banale se ci pensi. Ora questa cava è in una zona montuosa e quindi soltanto anche per andare in questo posto ci vuole del tempo. Spesso queste nuvole di punti, o meglio nell'ambito mio di lavoro che è molto legato al disastro geologico, riguardano ambiti dove andarci a piedi è molto molto difficile, a volte anche pericoloso e quindi ho la possibilità di vedere qualcosa che altrimenti non riuscirei a vedere, neanche muovendomi, punti, ma posso anche condividerlo con qualcun altro. Quindi potrebbe esserci qualcuno che vuole avere un'idea di come è fatta questa cava ma per qualche motivo in questo momento non ci può andare ma c'è dell'urgenza e allora ti dico guarda senti ti mando questo modello è un visualizzatore, ti puoi guardare la nuvola di punti. Ok, molto bello guardare la nuvola di punti però come faccio a sapere qual è la distanza che c'è tra la cima di questa cava e il piazzale di lavorazione, posso fare delle valutazioni quantitative? Sì, se la nuvola di punti è affidabile in questo senso e allora lì devi indagare chi ha creato la nuvola di punti, quindi devi chiedere che ti venga dato una nuvola di punti robusta, affidabile, confidente e coerente con la realtà, se lo è il visualizzatore, ora ti faccio vedere questo, ce ne sono diversi, questa è una soluzione open che richiede a chi fa il processo di smanettare un po' con il codice, ma ci sono anche delle soluzioni a pagamento tramite noleggio che ti permettono di creare dei visualizzatori da condividere, ad esempio posso utilizzare gli strumenti di misura per sapere qual è la distanza in metri che c'è tra il punto superiore, il punto apicale e il piazzale di questa cava e scopro che sono 170 metri, oppure posso tirare una linea per capire quanto è lunga questa, non ho tirato la linea giusta, quanto è lunga questa bancata, quindi posso definire una polilinea nello spazio tridimensionale, oppure posso conoscere le coordinate di vari punti che mi interessano per sapere ad esempio dove sono posizionate alcune cose e quante è la quota, questo è quello che fa un visualizzatore, questo visualizzatore è un visualizzatore che viaggia sul web, per cui chi ha bisogno di sapere queste informazioni da me riceverà semplicemente un link e potrà fare tramite una connessione web che ovviamente è necessario, tutto quello che puoi vedere in questo senso. Il visualizzatore secondo me è indicato per tutte quelle persone che non vogliono scaricare dei software, non vogliono imparare dei software, non hanno esigenze specifiche per indagare la nuvola di punti, ma gli servono soltanto avere delle informazioni qualitative e quantitative per i propri scopi. Già che ci sono ti faccio vedere un'altra cosa che può fare questo visualizzatore anche perché siamo in un ambito di cava, puoi tracciare un profilo ad esempio, quindi individui con due punti un profilo e puoi andare a vedere il profilo in 2D e come vedi ti sposti con, mi devo un attimo rimpicciolire, ti sposti un attimo con il cursore e vedi a seconda di dove ti muovi lungo il profilo 2D il cursore si sposta nello spazio tridimensionale. Questo è potente se ci pensi perché hai la possibilità di condividere informazioni in maniera veloce e andare virtualmente sul posto senza doverci fisicamente andare, posto che poi ci dovrai andare a seconda di quello che dovrai fare. Questo è il grande mondo dei visualizzatori, se ti interessa avere qualche informazione in più sui visualizzatori, se ne utilizzi già qualcuno fammene sapere, io ti sto condividendo questo che uso io, è un sistema libero, e è tutto a carico di chi crea la nuvola di punti, attenzione il visualizzatore non deve essere sulle spalle di chi riceve la nuvola di punti, o meglio lo può essere ma io credo che sia chi deve produrre, chi produce la nuvola di punti che si deve mettere sulle spalle l'onere di condividere il dato attraverso questo sistema. Se hai degli interessi specifici fammelo sapere, magari approfondiamo il mondo dei visualizzatori anche tramite soluzioni a pagamento che ti sgravano di imparare codice e fare programmazione. Poi c'è il mondo dei software. C'è il mondo dei software e qui entriamo nel campo del, ok, vedo la nuvola di punti, ci incomincia a mettere mano in maniera attiva sopra. E il mondo dei software è vastissimo. È vasto anche il mondo dei visualizzatori, ma anche il mondo dei software è più vasto. Questa è una nuvola di punti caricata all'interno di uno dei software che utilizzo per le nuvole di punti, per la gestione delle nuvole di punti. Questo è un software commerciale, si chiama Leader360 e ha tutta una serie di tool, di strumenti abbastanza avanzati ed è pensato per chi ci deve mettere le mani su questa nuvola di punti. Che cosa posso fare? Te lo racconto senza fartelo vedere perché ci andrebbero delle ore di video altrimenti con questo software e con questa nuvola di punti che, come vedi, riguarda un ambito in parte edificato e in parte boscato. Beh, potrei filtrare tutti i punti mantenendo soltanto i punti che appartengono al terreno, togliendo tutto quanto per creare un modello digitale di elevazione che si riferisce soltanto all'andamento del terreno. Oppure potrei ritagliare la nuvola di punti per eliminare le parti che non mi interessano. Potrei creare delle sezioni ad un passo regolare, potrei determinare le caratteristiche delle piante, come vedi qua ci sono ad esempio dei cipressi e delle altre piante, per fare un campionamento della vegetazione secondo degli strumenti che metti a disposizione questo software. Ti serve una cosa del genere? Forse no, forse sì. Se ti serve, a seconda di quello che ti è necessario, potresti orientarti verso un software per gestire la tua nuvola di punti o una nuvola di punti che ti è arrivata da qualcun altro. Questo software si chiama PointCab Origin, è un software che prende una nuvola di punti, è molto centrato sulla parte legata all'architettonico, quindi nuvole di punti rifabbricati, prende una nuvola di punti nello spazio tridimensionale, la spacca in tre viste e poi ti dà la possibilità attraverso una serie di strumenti di ricavarti in pochissimo tempo, con pochi clic, delle piante, dei prospetti, delle sezioni che possono essere portate poi in un ambiente 2D per essere ridisegnate, quindi puoi disegnare una piantina, la dico molto brutalmente, a partire da una nuvola di punti semplicemente con poche interazioni con il software. Potresti portare le nuvole di punti anche in ambiti tradizionalmente 2D? Se sei pratica o pratico dei software GIS o CAD, le nuvole di punti adesso vengono implementate anche all'interno dei GIS e dei CAD. Io utilizzo QGIS come software GIS, so che Global Mapper, ArcGIS, sono tutti software che stanno andando abbastanza verso la direzione di abbracciare le nuvole di punti perché di fatto sono molto famose e se ne parla parecchio e vengono prodotte tanto in quest'ultimo periodo e quindi anche loro ti danno la possibilità di importare le informazioni puntuali, con dei limiti secondo me. Se vuoi mettere mano a una nuvola di punti perché ci devi attivamente lavorare sopra, il mio pensiero è quello di orientarti verso un software che sia pensato e nato per le nuvole di punti, con un orientamento specifico tipo quello che ti ho fatto vedere prima, PointCab Origins per l'edilizia e l'architettura, ma comunque che sia nato per gestire una nuvola di punti. Tra tutti i software che ci sono, adesso qua ti faccio vedere giusto un elenco di software che io mi sono segnato, ma ce ne sono molti di più, tutte le case, le ditte che producono strumenti topografici, visto che in mezzo a questi strumenti ci sono entrati a gamba tesissima tutti i sistemi di scansione laser che producono nuvole di punti, beh tutte le case che producono strumenti topografici e laser scanner hanno i loro software proprietari che gestiscono le nuvole di punti, beh qua c'è una lista che credo veramente che non sia esaustiva al 100%. Tra tutti i software che io ti consiglio di prendere in considerazione se vorrai avvicinarti al mondo delle nuvole di punti e a gestire attivamente secondo le tue necessità le nuvole di punti ce n'è uno che si chiama Cloud Compare che è un progetto open source, quindi è un progetto libero, il codice è libero, è un progetto che beneficia dell'essere un open source perché ha una grande community di persone che ci lavorano, che quindi si scambiano informazioni, puoi trovare un sacco di risposte ai problemi che possono sorgere quando lavori sul software semplicemente digitando il problema online, lo trovi a questo indirizzo web danielgm.net.cc ed è secondo me in questo momento la soluzione ideale per chi si vuole avvicinare alla gestione delle nuvole di punti. C'è la pagina del download e andando nella pagina del download trovi il download all'ultima versione stabile e all'ultima versione beta, la beta release, a seconda di quando accederai a questa pagina ovviamente i contenuti in termini di date potrebbero essere diverse. Cloud Compare è un software che prende al suo interno nuvole di punti, ma non solo nuvole di punti, tendenzialmente comunque è pensato per gestire i dati tridimensionali, nasce per questo ed è per questo che io ti consiglio di orientarti verso software di questo tipo, perché sono pensati proprio per prendere questi dati al loro interno e gestirli al meglio. ha bisogno di un po' di hardware, tutti questi software hanno bisogno di un po' di hardware, se hai una buona scheda video è meglio, se hai un po' di RAM e di CPU è meglio perché ti permettono un lavoro efficiente, quindi a zero non ho, annullano neanche, abbassano i rischi di crashing del sistema e ti permettono di lavorare in maniera più fluida. Questo è un software che come vedi ha tutta una serie di tool, di strumenti, di possibilità, di plugin che sono dei corpi di codice che vengono agganciati al cuore principale, che vengono sviluppati dalle altre persone e fanno delle cose specifiche, è un software e quindi ha bisogno di tempo per essere imparato, ma le potenzialità di una roba del genere rispetto al mondo dei visualizzatori sono infinitamente più grandi. Ci sono un po' di video che ho già condiviso che riguardano Cloud Compare, ce ne saranno altri, proprio partendo dal livello base 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 lo conosceremo piano piano, però io credo che la cosa importante sia capire che cosa devi fare con la nuvola di punti in modo tale che tu debba accedere a questi dati in maniera efficiente. Essere chiaro chiara con chi ti produce la nuvola di punti in relazione a quelle che sono le tue esigenze, le tue necessità, in modo tale che sia informato la persona che produrrà l'output di che cosa hai bisogno e a quel punto trattare la nuvola di punti con gli strumenti che ti sono più congeniali o che vanno verso la direzione del tuo obiettivo, perché ognuno di noi tratta la nuvola di punti secondo richieste, necessità, esigenze e sensibilità che sono diverse. Io che produco una nuvola di punti ho un occhio diverso da chi prende quella nuvola di punti e ci fa una progettazione, perché le sue necessità e la sua sensibilità sono molto diverse. Credo che se tutti noi rispettassimo questa attenzione nei confronti di chi produce e di chi riceve la nuvola di punti, la nuvola di punti avrà un effetto volano nei prossimi anni molto molto importante, molto di più di quello che già sta avendo in questo momento e andremo sempre di più nella direzione di usiamo il dato tridimensionale per fare tutto quello che ci serve e di cui abbiamo necessità. Io spero di essere stato utile in questo video e di averti dato qualche indicazione generale su come si possono gestire le nuvole di punti. Se non sono stato utile me lo fai sapere scrivendolo nei commenti perché in questo modo mi dai degli indicazioni per fare video migliori sulla base del tuo feedback. Se invece questo video è stato utile o pensi che sia utile per qualcuno che sta guardando la nuvola di punti, ha sentito parlare di nuvole di punti ma non ha capito come si possono gestire, glielo puoi condividere e in questo modo mi aiuti anche a diffondere un po' i contenuti di questo canale. Se hai dei consigli, dei suggerimenti, degli spunti mi puoi scrivere su Telegram at Paolo Corradeghini altrimenti qui a sinistra ci sono i miei contatti social con cui ti puoi collegare con me virtualmente online e se poi pensi che questo progetto sia interessante puoi scegliere di diventare una finanziatrice, un finanziatore di 3D Metrica. In questo modo mi dai una mano concreta, mi fai capire che queste cose che condivido sono delle cose utili, sono delle informazioni utili ed è grazie a chi supporta già il progetto che io posso produrre questi contenuti liberi per tutti. Io sono Paolo Corradeghini, ti ringrazio per essere arrivato fin qua a guardare questo video, ti do l'appuntamento alla prossima e ti saluto fortissimo. Ciao!